Sono stati trovati ben 44 corpi fatti a pezzi e sepolti in un pozzo nello stato messicano di Jalisco, come ci informa la BBC. Ha scoperto che risalirebbe i giorni scorsi, ma solo nelle ultime ore di tempo gli esperti sono riusciti a risalire a quelle che sono le identità di alcuni corpi, ma non di tutti. Decine chiusi in ben 119 sacchi neri, sotterrate nei campi poco fuori della città di Guadalajara, i resti umani sono stati già individuati dopo che i residenti hanno incominciato a lamentarsi per il coattivo odore che purtroppo si percepisce nella zona. Nello stato di Jalisco, vi ricordo che c'è, quindi è presente e radicata una delle più grandi bande criminali della storia del Messico, legata al traffico di droga, di istituzionati ed è il secondo trovamento del genere nell'area proprio in questione nell'anno 2019. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi va, commentate, al prossimo video da Leandro, un'area turro italiana.